Bene Massimo, dunque, edizione 2019 di Cortisoni, ci hai già avuto modo di spiegare e raccontare quello che succederà? Brevemente, le chicche, le novità? Allora, le novità sono sicuramente un focus, ogni anno dedichiamo una parte del festival, quella non competitiva, all'esplorazione di un genere. Quest'anno chiudiamo una quadrilogia nerd, che noi l'abbiamo definita così, abbiamo esplorato il tema dei supereroi al cinema, l'animazione giapponese, il cinema di combattimento, quello dell'anno scorso, e quest'anno invece facciamo un focus sull'horror contemporaneo. Sarà l'anno di Suspiria Varese, quindi ci piaceva toccare questo genere, e quindi le prime serie di apertura, in collaborazione con il Torino Horror Film Festival, dedicheremo qualcosa a un non visto, quindi ci sarà una serata dedicata agli zombie, con questo capolavoro giapponese che ha un po' riscritto il genere, che è zombie contro zombie, introdotta da una zombie walk, quindi una camminata per il centro di Varese, in cui invitiamo giovani e non solo a vestirsi da zombie e attraversare la città, quindi un po'... C'è un po' di impatto, diciamo. Speriamo. Il giorno successivo invece abbiamo questa serata dedicata appunto al Toro di Torino, in cui faremo vedere Sant'Agata, che è un horror classico ambientato in un convento, quindi, insomma, atmosfere già viste e alcuni cortometraggi che introducono e chiudono la serata. Avremo poi anche ospite Federico Sfascia, che è un po' un artigiano dell'horror italiano, a cui dedicheremo una nottata, perché, insomma, qui vedo la notte va resina, a noi piace andare oltre la mezzanotte, dedicheremo una nottata al suo cinema, e il giorno dopo sarà presente in biblioteca per un incontro, in cui ci racconterà un po' come costruisce i suoi effetti speciali e artigianali. Tu, Massimo, in Cortisonici, sperimenti tutti i nuovi linguaggi legati agli zombie, da Romero sono passati più di 50 anni, trovi che in quella metafora, nella metafora del morto vivente, ci si ritrovi ancora oggi, benché in termini attualizzati. Cioè, l'idea di far marciare gli zombie per Varese è una provocazione che non può essere sottaciuta. Beh, insomma, Romero, la scena del supermercato rimane un punto per cui l'horror entra, sfonda e diventa critica, e diventa sociologia, diventa tanto, insomma, no? Devo dire che il film che faremo vedere, che appunto prima lo segnalavo, questo zombie contro zombie, è una bella riflessione metacinematografica, cioè una troupe che gira un film di zombie e irrompe a questo punto invece un'orda reale, no? E quindi è una riflessione che forse guarda più alla cinefilia, che guarda molto divertente, ma non sento più quella carica fortemente critica che poteva avere le prime pellicole di Romero, trovo che invece è una bella riflessione sul cinema, insomma, su che cosa è diventato. Ah, questa è una visione che non avevo considerato, io continuavo a vedere più la visione politica dello zombie, che è sempre una personalità cinematografica estremamente politica, poi in quel caso era quella politica lì, anticonsumistica, anticapitalistica, adesso tutto si è trasformato, però ripeto che vedere gli zombie, passeggiare per Varese, secondo me resterà nella storia, ecco, questo ti sto dicendo, non è solo un'idea spiziosa, ne sono convinto, perché conosco piuttosto bene la città. Grazie.